musica 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 bell'altro ragazzi eccoci qui qui sull'idea mistake del parker Oggi sono qua, appunto, vabbè, c'è la webcam che è assoluta, cioè, oggi E niente, perché ho trovato, cioè, mi sono fatto un design piccolo piccolo, proprio sprauso Per, come si chiama? Vabbè, per la webcam, per meno Ah, per il board della webcam Non so, ma è decente, se vi piace, mettete nei commenti Niente, il video è proprio qui, però c'è da, scusatemi Ma, scriverli, vi giuro, perché proprio, sono andata malissimo Non so, purtroppo mi sentirete anche spesso, se avete sotto il naso Iscrivetevi alla NANIA, su LANIA NETWORK E siamo nel par... Ah, poi c'è, siamo in Zulania Lola, ah, capissimo, cosa dobbiamo spiare in questo Noi ci siamo fuori in NANIA, ne ho proprio spollato Vabbè E non vedete quando scrivo le poste Scusatemi Poi, vabbè, diciamo, adesso, raga, siamo Sul... Parker Mr. Rapp E... Illuminamente di più Come... Nel caso, vedete, la mia spinta è fantastica E adesso facciamo l'Akbar 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 plastic form era volendo di usare tanta roba ma si vede che ho il n compilante una canzone dunque per provare Oltre già, che no? Vabbè, non ci doresc s-o aspettiamo un po' Luce 183 Nel desto 1 Abba Speriamo ancora di entrare Eccolo Oltre Abba, si accadeva un palito Speriamo in grattina Allora, mi stara, che non mi piace Eccolo Si, negocio Ti asci Vi andiamo Lo finito, ha no? Sono solo io Mettrate Tutti della Nata Inverso Capsule Oxide, un po' Ok, c'è un gran 6, quindi ragazzi, non mi chiede Ragazzi, sono di largo, non mi chiede Comunque ragazzi, come avete visto, è delicatore di 1.6 Guardate tutto quanto, praticamente Anche su Youtube Ok, eccoci arrivati, finalmente Con il quarto della che aspettavo Ah, sono un Seeker! Oh, che come? Non avevi fatto il Seeker Eh, non si ricordo le bestemmie Bestemmia! Ci sono, ci sono! Che vuoi, che vuoi? Su, questo qua è proprio mai venuto addosso Non posso farlo morire, oh! E chi è questo qua? Siamo di bravo Oh, ma sei rezzo allora con questa roba qua, eh? Veramente mi arrompono proprio le palle Io scappo veramente Io scappo veramente Sì, sto facendo pinta di non avere la vita Ma, eccoli, eccoli di nuovo! Ce sooo! Sei simpatico Queste cose mi fanno salire le bestemmie Come posso insegnare sui miei luci Guardalo come scappa! E mi tiro le puzzle Nooo! 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 Ma, Giuso! Perché ce l'ha con me? Perché ce l'ha venuto con... Sì, locco di terra! che risparmio la fatica guarda che schifo vogliono essere le sigar eh poi io ho fatto vicina poi dovevo finire la sigar sono solamente leggermente scarsa ok no perché schifo nella sigar poi lì ho visto leggermente un blocco di pietra che si migliora se riesco a leggerli dalle paghe è proprio poco ci so per me gioia ancora da evitare questo coso ragazzi veramente mi sta rompendo altamente le paghe è tutto è tutto adesso iniziamo iniziamo a cura di pizza che coso non è che ci stare ecco la macchera eccola non posso senti qui sta facendo salire delle besteglie ma veramente ragazzi è bestiale è peggio di cosa bestiata ce so ho ammazzato uno alleluia aiuto un po' veramente oi 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 non ci sono Io non ho paura, non so che stanno in due, vero? Abbiamo 7 secondi ragazzi Non ce la facciamo mai E' un fanculo però eh Veramente Leggeri così non si può Vabbè dai, prendiamo di nuovo una mappa Allora Vabbè facciamo l'ultima mappa Chi è questo tizio? Dovrebbe essere qualcosa Vabbè subito è arrivata gente a rapita Adesso si ritorna sui che gli sclerbi Perché veramente è bruttissimo Non so come fanno i super scarsi come me Ma secondo me Non è nemmeno troppo a quello 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 L'ha no Non è nemmeno troppo a quello Che non è il film Un film Perfetto andiamo Banco scolastico 200 euro Droga 2000 euro al grammo Forno scherzato 600 euro Qualcosa Porto Deus Questa è di milanicchi Ma cosa c'entra? Non so se devo sentire sopra il naso ma veramente non c'è Non c'è Ma sono idea solo ragazzi Se lo troviamo E' lui E' lui 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 Oh no Questo 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 A me ne salgono le stimmie A porco Mi sono fermata Mi sono fermata Lui Perfetto Io ho dato che mi permette di mettere sul cello web Perché in realtà non lo mi entro E' un po' e poi la prossima volta è qui, perché si tratta di un robot e non si tratta di un'altra cosa e quindi la prossima volta è qui perché si tratta di un robot e la prossima volta è qui e poi si tratta di un robot e non si tratta di un vettore DROGERIA no dai voglio leggere cosa c'è mi piace la drogeria e deve essere una figlia per questo caso di quello sui no ne no no 23 ou Ombè ragazzi, per questo video posso essere tutto e noi ci vediamo alla prossima, bella!